Da Castorano a Casteldilama avevano promesso lavori immediati ma come dimostrano le nostre immagini qualcuno ha pensato bene di farla diventare una discarica a cielo aperto. E allora trasferiamoci subito sulla strada che da Castorano sale verso Casteldilama. Avevano promesso lavori immediati ma come adesso noterete anche attraverso le immagini che sono state girate dal regista Gino Renato Fratini. Nulla è stato fatto, anzi qualcuno ha addirittura pensato che dal momento che non ci sono controlli di lasciare lì di tutto. Dunque è una strada che sta diventando un'altra, l'ennesima discarica a cielo aperto. Dunque seguiamo insieme il servizio di Bernardino Comandini. Le telecamere di RTM oggi si trovano di nuovo, come promettiamo sempre noi che torniamo sui luoghi dei misfatti, ci troviamo sulla strada che conduce da Casteldilama verso Castorano. Siamo stati già qui diverse volte a fare le riprese, siamo tornati oggi, fine gennaio, e vi facciamo vedere con le immagini che i lavori non si sono fatti. Anzi, hanno aperto la plastichetta che diciamo sempre noi rossa e sono entrate perché la gente probabilmente stanca di fare un'altra strada, visto che qui i lavori non si fanno, bene o male magari piano piano riescono a passare. Hanno rotto la plastica rossa e sono passati. Comunque facciamo notare con la telecamera che visto che qui si pratica poco questa strada e di notte non c'è illuminazione, non c'è controllo, hanno anche qui cominciato, le immagini mi fanno vedere, hanno cominciato a buttare dei frigorifri, dei materassi, delle televisioni, quindi a breve qui sarà una discarica e ce l'ha aperto. Quindi vi facciamo vedere in anteprima quello che sta succedendo e quello che accadrà prossimamente qui. Le immagini mi fanno vedere, guardate tutto il sozzo che c'è qui vicino alla recensione. Strada completamente abbandonata, ci siamo solo noi. Adesso con le prossime immagini vi faremo vedere che al lato opposto è la stessa cosa. Hanno rotto la recensione di plastica e qualcuno con la macchina, magari quelli che abitano in zona, stanchi di questa situazione ormai che va avanti da due anni, hanno rotto la rete per passare. Quindi noi facciamo un richiamo, facciamo la domanda al sindaco di Castorano Ficcadendi, al presidente della provincia di Erasmo, perché non si fanno i lavori e perché tutto questo stato di abbandono, visto che i cittadini pagano le tasse, pagano per passare su questa strada e invece non ci possono passare. Come vediamo una macchina, il resto di noi sta facendo manovra perché non può passare e quindi torna indietro. Questo è un disservizio per i cittadini, è un disservizio per gli scuolabus che portano i bambini a scuola, come dicevamo la volta scorsa, è un disservizio per i mezzi di soccorso che magari passando da qui farebbero anche prima a portare il primo soccorso a un malato, a un infortunio sul lavoro, a tante cose che possono succedere. Invece devono passare su una strada pericolosissima dove con un cambio di bombieri, con un'ambulanza, crea problemi al traffico ma soprattutto crea problemi al soccorso. Quindi rifacciamo l'appello di nuovo al sindaco di Castorano Ficcadendi, al presidente della provincia, perché questa è una strada provinciale, quindi richiamiamo un attimo il presidente della provincia a far sì che magari venga a fare un sovrloco di persona se non c'è già venuto e cominci a pensare che cosa fare per sistemare questa strada, perché questa è una strada principale che collega la salaria a Castorano a Uffida, quindi non c'è un'altra strada. Ce n'è una qui sotto vicino a noi che però non è una strada di lunga frequenza, di grande percorrenza, è una strada provvisoria, questa è la strada principale che collega la salaria ad Uffida e a Castorano. Quindi di nuovo, non voglio ripetere, ma richiamiamo un attimo il presidente di Erasmo e il sindaco Ficcadendi di Castorano che a quanto prima possono prendere provvedimenti per sistemare questa situazione che ormai ha del paradossale, perché ormai penso che veramente è ora che ci mettiamo una maschera, è ora che ci mettiamo le mani perché sono passati anni e qui nessuno fa niente, adesso forse con l'avvicinarsi della campagna elettorale qualcosa si muoverà come si sta facendo in altri paesi, si stanno facendo dei lavori sulle scuole, si stanno facendo dei lavori sulle strade, ma solo perché si sta avvicinando alla campagna elettorale, fino ad oggi non si è fatto nulla, adesso all'improvviso diventiamo tutti bravi e cominciamo a fare lavori. Allora visto che siamo in campagna elettorale, visto che siamo tutti bravi e facciamo i lavori, sistemiamo questo pezzo di strada, ci vorranno poche migliaia di euro, noi non facciamo le strade, lo diciamo sempre noi, noi facciamo tutto altro lavoro, però non siamo nati ieri mattina, quindi ci rendiamo conto che magari per sistemare provvisoriamente, non definitivamente, provvisoriamente un pezzettino di strada con poche centinaia di euro, con poche migliaia di euro, sistemiamo una situazione veramente pericolosa e veramente ridicola, perché adesso sta diventando una cosa ridicola, che noi sistematicamente ogni mese, mese e mezzo facciamo la trasmissione su questa strada, questa è la quarta volta che veniamo, non vorremmo venirci più, però richiamiamo di nuovo il sindaco Ficcadenti, sindaco è ora veramente che ci mettiamo le mani, presidente d'Erasmo è ora che ci mettiamo le mani, facciamo qualcosa per i cittadini che hanno diritto, ripeto, hanno il diritto di passare su questa strada. Per RTM da Castorano, voglio fare la battuta che facciamo sempre, tanto che ci sta bene, terzo mondo, perché questo è il terzo mondo, per oggi è tutto, ma solo per oggi perché torneremo su questo caso, comunque il numero in zona di impressione è a vostra disposizione, per questo caso e per altri casi, noi siamo lì ad aspettare le vostre telefonate, interverremo prontamente alle vostre richieste, un saluto allo studio in Fabio, al sindaco Ficcadenti di Ofida, di Castorano e al presidente d'Erasmo. Per RTM è tutto.